buongiorno oggi realizziamo insieme il completo brasil partiamo dalla gonna la gonna realizzata con il cotone fiocco io ho scelto un verde mela 76 54 bene occorreranno circa 250 grammi se volete praticamente copiare quello che il mio progetto altrimenti la gonna essendo fatta balze potete tranquillamente allungarla oppure accolciarla per quanto riguarda invece il top ci occorrerà del cotone cotonello io ho scelto questa tonalità la apriamo insieme e per il top ripeto apriamo insieme il cotone cotonello io ho scelto questa tonalità sul grigio marroncino e cru ok uno sfumato lì me ne vorrà circa 250 300 grammi anche per quello secondo ovviamente della misura bene cominciamo con la gonna partiamo dalla cintura per lavorare la cintura dovremo montare 18 catenelle più una di ritorno e lavorare la prima riga a maglia bassissima per tendere e stringere il lavoro proseguiremo poi a maglia bassa in costa sui le sulle 18 maglie sottostanti la maglia bassa in costa con l'uncinetto numero 2 non ve l'ho detto prima ok con l'uncinetto 2 prendiamo io ho fatto la prima maglia la maglia bassa in costa bisogna prendere la l'anellino di retro come vedete qua e fare il nostro punto basso per cui prendiamo l'anellino dietro estraiamo il filo e facciamo il punto basso per quanto riguarda la lunghezza della nostra fascia dovrete ovviamente prendere la circonferenza della vita ok perché ovviamente dovrà essere chiusa poi così e decideremo se questa fa questa parte fungerà da davanti oppure potremo tranquillamente girarla e la chiusura andrà sul retro ok per cui noi cominciamo a lavorare quella che la nostra fascia della circonferenza in alto e ci vediamo dopo per proseguire la gonna e fare le balze bene io ho terminato la mia fascia vediamo ora con l'ausilio del manichino dove siamo arrivati ok vedete che la maglia bassa in costa da questo effetto elastico ok bene sono arrivata alla misura giusta e ho lavorato ancora un giro di maglie bassissime per terminare ora procederemo a creare le asole per la chiusura se voi non volete creare le asole potete passare questo passaggio evitarlo e cucirvi dei piccoli automatici e far sormontare le due parti tanto comunque le due parti poi saranno ugualmente sormontate per creare poi le balze della gonna io ho deciso di fare degli occhielli comunque delle asole per cucire dei bottoncini e vediamo insieme come crearle allora ho lavorato una catenella e giriamo il nostro lavoro sempre a maglia bassa in costa lavoreremo una maglia bassa nella prima maglia una seconda una terza e una quarta 3 catenelle e saltiamo 3 maglie di base proseguiamo sempre con quattro maglie basse 3 catenelle saltiamo 4 maglie di base e terminiamo con le ultime quattro maglie basse 2 3 e 4 stacchiamo il filo dopodiché lo affrancheremo e nasconderemo la codina e la nostra fascia è pronta successivamente il passaggio successivo sarà ovviamente quello di creare le balze cambieremo uncinetto anziché il 2 useremo il 3 se volete ottenere un effetto ancora più stretto per la vostra fascia anziché lavorare le maglie basse come ho fatto io lavorerete sempre così a costa retro tutte maglie bassissime vi darà ancora un effetto più stretto ok perfetto proseguiamo insieme poi con realizzare le balze della gonna bene con l'uncinetto numero 3 io ho cercato di sormontare le due parti per cui vi faccio vedere bene ho saltato queste due righe alla terza praticamente in rilievo ho appuntato l'uncinetto così ho estratto il filo così lo faccio vedere anche se ho già fatto ok e ho lavorato 4 catenelle ho saltato questa riga e ho lavorato sulle maglie queste in rilievo ho lavorato una maglia alta una catenella una maglia alta e una catenella per tutto il giro qui lo vedete bene sulle maglie in rilievo ho chiuso con una mezza maglia bassa sulla prima delle 3 catenelle che sostituiscono la maglia alta sono entrata nell'archetto e adesso stiamo lavorando quello che sono le balze della gonna è la prima balza ho lavorato 3 catenelle una maglia alta nel primo archetto una catenella di separazione e 2 maglie alte ho lavorato 4 catenelle saltato due spazi e successivamente ho lavorato una maglia alta 4 catenelle una maglia alta nello stesso spazio dovete ripetere ovviamente 4 catenelle per ripetere la la sequenza dovete ripetere questa sequenza per tutto il giro dovrete terminare in sostanza con 4 catenelle una maglia alta 4 catenelle una maglia alta e chiudere nella prima maglia nella prima maglia nella catenella d'inizio nella terza catenella dal basso questo è il primo giro della balza per il secondo giro raggiungiamo a mezze maglie alte la catenella di divisione del gruppo di due e ripetiamo la stessa lavorazione 3 catenelle una maglia alta una catenella di divisione e 2 maglie alte proseguiamo con 3 catenelle saltiamo questo arco nell'arco a v lavoreremo 2 maglie alte chiuse insieme e 3 catenelle per cinque volte ripetiamo 3 catenelle gruppo di due maglie alte divise da una catenella 3 catenelle e lavoreremo 2 maglie alte insieme 3 catenelle 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 e ultime due maglie alte ok proseguiamo con 3 catenelle ripetiamo sempre questo gruppo e questo ventaglio di cinque maglie cinque gruppi di due maglie alte chiuse insieme per tutto il giro chiuderemo con una maglia bassissima sulla terza catenella d'inizio del giro bene raggiungiamo prossimo arco terzo giro lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta un'altra maglia alta 3 catenelle 2 maglie alte singole nello stesso arco proseguiamo con 2 catenelle raggiungiamo il primo arco lavoriamo una maglia bassa 3 catenelle raggiungiamo il secondo arco lavoriamo una maglia bassa 3 catenelle terzo arco una maglia bassa 3 catenelle e un'ultima maglia bassa nell'ultimo arco proseguiamo con 2 catenelle e ripetiamo queste due parti per tutto il giro chiuderemo con una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio bene raggiungiamo il prossimo arco stiamo lavorando il quarto giro lavoriamo 3 catenelle 2 maglie alte una catenella 2 maglie alte singole una catenella 2 maglie alte singole proseguiamo con 2 catenelle raggiungiamo il primo arco lavoriamo una maglia bassa 3 catenelle raggiungiamo il prossimo arco lavoriamo una maglia bassa 3 catenelle e una maglia bassa nell'ultimo arco proseguiamo con 2 catenelle e lavoriamo nel prossimo arco delle quattro maglie alte divise dalle catenelle il medesimo gruppo che abbiamo fatto in precedenza per cui quattro gruppi da 2 maglie alte singole divise da una catenella 2 catenelle di separazione e 2 archetti di 3 catenelle ci rivediamo alla fine del giro che chiuderemo sempre con una maglia bassissima sulla terza catenella d'inizio bene siamo al quinto giro raggiungiamo il primo arco di una catenella e lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta un'altra maglia alta una catenella e ancora due maglie alte singole nel piccolo arco di una catenella proseguiamo con una catenella andiamo nel prossimo arco sempre di una catenella lavoriamo una maglia alta una catenella e una maglia alta una catenella raggiungiamo il terzo angolo lavoro un terzo arco pardon e lavoriamo due maglie alte una catenella e due maglie alte proseguiamo con due catenelle raggiungiamo il primo arco di 3 catenelle lavoriamo una maglia bassa 3 catenelle e una maglia bassa nel prossimo arco così si rimane un arco con di 3 catenelle ok piano piano si sono ridotti lavoriamo sempre due catenelle e ripetiamo le stesse lavorazioni che abbiamo fatto in queste in questa prima parte e chiudiamo il giro sempre con una maglia bassissima sulla terza catenella d'inizio bene siamo a sesto giro raggiungiamo sempre l'arco lavoriamo 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta lavoriamo un'altra maglia alta una catenella e due maglie singole sempre nell'archetto di una catenella una catenella raggiungiamo saltiamo questa catenella raggiungiamo l'arco delle due maglie alte singole divise dalla catenella lavoriamo due maglie alte una catenella e due maglie alte singole una catenella raggiungiamo le prossime il prossimo gruppo delle maglie alte lavoriamo sempre due maglie alte singole divise da una catenella e altre due maglie alte singole 2 catenelle raggiungiamo l'ultimo arco e lavoriamo una maglia bassa 2 catenelle e raggiungiamo la prossima lavorazione ripetiamo questo gruppo di maglie alte e la maglia bassa singola per tutto il giro e chiudiamo con una maglia bassissima nella terza catenella d'inizio bene siamo arrivati all'ultimo giro della nostra balza e lavoreremo come lavoreremo una maglia bassa attraverso le due maglie alte 3 catenelle e lavoreremo una maglia bassissima prendendo la catenella e metà della maglia bassa estraiamo il filo e facciamo una maglia bassissima come vedete si è formato questa specie di pioppiolino saltiamo questa maglia lavoriamo una maglia bassa una maglia bassa nelle due maglie sempre 3 catenelle e lavoriamo il nostro pioppiolino per cui lavoreremo un pioppiolino una maglia bassa singola questo per tutto il giro termineremo con una maglia bassissima nella prima maglia che abbiamo lavorato e staccheremo il filo ora cosa dobbiamo fare dobbiamo ovviamente preparare le prossime balze per preparare le prossime balze come faremo semplicemente dovremmo lavorare una rete che ci permette di alzare ovviamente la gonna per poi procedere alla balza alla lavorazione della balza che ripeteremo sempre questi sette giri rimangono comunque confermati per cui come faremo adesso io prendo un altro gomitolo giusto per farvi vedere come realizzarla come faremo prenderemo il nostro inizio che è questo ovviamente e andremo a prendere la prima maglia che troviamo sottostante per cui la prima maglia alta del giro ok qui dove c'erano le 3 catenelle prendiamo estraiamo il filo e lasciamo un pezzetto così dopo lo faremo correre all'interno affrancandolo lavoreremo 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta una catenella e andiamo a lavorare a file per cui la prossima maglia è questa qui vedete io entro faccio la mia maglia alta una catenella una maglia alta nella prossima maglia una catenella proseguo così per quattro giri arrivato al quarto giro non faccio nient'altro che ripetere questa sequenza io la gonna l'ho lavorata per quattro balze come poi vi farò vedere una volta che termineremo i giri l'ho lavorata per quattro balze voi siete liberi ovviamente di fermarvi a tre oppure anche aumentarla e fare una gonna al ginocchio piuttosto che una gonna più lunga bene terminiamo il giro ci vediamo per la lavora la visione della gonna finale come vedete io ho terminato la mia gonnellina prima ho sbagliato a darvi delle indicazioni sono sei riga file ok per cui non quattro ma sei e poi faremo nuovamente la bordura una volta finito la bordura staccheremo il filo e ci riattaccheremo come fatto vedere in precedenza queste sono le quattro balze all'ultimo ovviamente staccheremo e fisseremo il filo e la nostra gonnellina è finita ok per il top vi occorre un uncinetto numero tre e mezzo allora ho fatto anche un piccolo schemino per darvi delle indicazioni dunque io per una 40 42 ho avviato 150 catenelle e ho chiuso a cerchio come vedete qui cosa ho fatto ho lavorato tre catenelle una catenella ho saltato uno spazio e ho lavorato a maglia alta così per tutto il giro ho fatto un giro a file in sostanza e ho a disposizione per la mia circonferenza 76 spazi per dividere davanti dietro e maniche dovremmo dividere per quattro per cui 76 spazi diviso quattro ovviamente più semplice cercare di dividere le cose se sono pari abbiamo a disposizione 19 spazi il punto è un multiplo di sei per cui quando fate le misure ovviamente che calzate sul manichino su voi stesse vedete dove volete farlo iniziare per cui con uno scollo piuttosto profondo o anche meno cercate di ricordarvi che il punto è un multiplo di sei per cui o aggiungete o diminuite sei punti bene noi siamo pronti e adesso vediamo come impostare il lavoro nel primo spazio lavoreremo tre catenelle che sostituiscono una maglia alta una maglia alta una catenella e due maglie alte sempre nello stesso arco e continuiamo con quattro catenelle saltiamo uno spazio nello spazio successivo lavoreremo una maglia alta quattro catenelle e una maglia alta e lavoriamo ancora quattro catenelle saltiamo uno spazio e riprendiamo il primo motivo che abbiamo fatto per cui dobbiamo ripetere sempre questo motivo gruppo di due saltiamo uno spazio quattro catenelle gruppo di una maglia quattro catenelle una maglia sempre nello stesso arco quattro catenelle saltiamo un arco di base questo così per tutto il giro chiudiamo sempre con una maglia bassissima sulla terza catenella d'inizio dopodiché copiamo identicamente ripeto la prima balza della gonna bene abbiamo terminato quello che è la nostra prima fascia del collo ora con l'ausilio dei marca punti dobbiamo lavorare sul davanti e sul dietro per alzare il lavoro questa parte che saranno le maniche evitiamo di lavorarci per cui prendendo a rovescio decidendo che questo è davanti e questo il dietro io comincio a inserire l'uncinetto dove ho il marca punti vedete dietro la prima maglia alta infilo il mio filo così lasciando un po di codina adesso lavoro con il lavoro piatto almeno così si riesce un attimino a vedere un pochino meglio ok estraggo il filo lavoro quattro catenelle una maglia alta e una catenella di separazione nello stesso alloggio qui lavoreremo un'altra maglia alta che sarà l'aumento vedete che io ho creato uno spazio in più rispetto all'originale proseguo con una catenella vado a prendere la prossima maglia e proseguo a lavorare a file vado a prendere l'altra maglia e proseguo fino a terminare con questa maglia dove ho il marca punti e farò lo stesso aumento per cui qui terminerò con una maglia alta una catenella e un'altra maglia alta alla fine del giro questi aumenti li faremo per cinque righe per cui una di andata una di ritorno una di andata una di ritorno e una di andata sempre con gli aumenti laterali stacchiamo il filo e lavoriamo lo stesso procedimento dall'altra parte quando noi avremo pronta la nostra gabbia chiamiamola così la nostra rete dovremo unire queste due parti queste due parti così per praticamente avere l'alloggiamento della manica per l'ultimo giro della rete che ci occorrerà per agganciarsi alla prossima balza ho avviato ho aumentato una maglia alta all'inizio del giro per cui ho lavorato 4 catenelle e una maglia alta nello stesso alloggiamento sono arrivata alla fine ho lavorato sempre una catenella e una maglia alta nello stesso alloggiamento per congiungere poi le due parti ho avviato a nuovo 6 catenelle adesso vediamo insieme come lavorare nella prima maglia lavorerò una maglia alta tiriamo bene fino sotto farò sempre l'aumento per cui una catenella una maglia alta nello stesso alloggiamento proseguo tranquillamente a file fino alla fine della riga qua fino alla fine della riga faccio sempre un aumento per cui arrivo a lavorare una maglia alta nella terza catenella una catenella e una maglia alta nello stesso alloggiamento 6 catenelle e mi congiungerò con l'altra parte con una maglia bassissima sulla terza catenella di inizio ovviamente terminando cosa farò la fase successiva quale sarà semplicemente dovrò andare a ripetere quello che è la mia balza riprendendo dal primo giro per cui una volta chiuse adesso io faccio faccio finta che siano chiuse le mie due parti ripeterò da capo andando a riprendere il primo giro per cui lavorando un gruppo di due maglie alte con una catenella in mezzo poi ovviamente se avete visto il video ci sono tutte le descrizioni e ripeterò questa balza cosa farò successivamente dovrò sempre agganciarmi a rovescio a questa balza al primo giro e ripetere sempre le sei righe a filet e ripetere ovviamente la balza per rifinire io ne ho create quattro voi siete libere di farne meno o di più perché comunque questo progetto permette sempre di allungare o accorciare il progetto bene il nostro tutorial è terminato e vi auguro un buon lavoro con i prodotti di trasferere grazie 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 grazie